Riprende domani la preparazione dell'Agropoli dopo tre giorni di riposo concessi da Mr. Rigoli, in programma la gara contro due torri che non può prescindere dai tre punti. Di nuovo 4 e 5 punti infatti la distanza da Agrakas e Torrecuso con le partite che inevitabilmente diminuiscono. Le prossime sei gare saranno decisive e verosimilmente daranno alla classifica i connotati decisivi. L'Agropoli ha un calendario non facile. Gli uomini di Rigoli sono attesi da trasferte tipo Mugnano con la Neapolis e Torrecuso. Due scontri diretti e in casa con pagini come la Battipaiese, sempre difficile da affrontare. In particolare la gara di Torrecuso sembra un vero e proprio spariggio. Se si fosse vinto a Sorrento poteva bastare anche un pari per tenere tutto in gioco. Adesso bisogna tentare il colpaccio. L'Agrakas dopo la squillante vittoria con la Leonfortese è attesa da due trasferte che però sono abbastanza abbordabili con Montalto e lo stesso due torri. Come detto sei gare e ne sapremo di più.